Dal 1945 gli esperti occidentali hanno scritto milioni di parole sugli effetti delle armi nucleari, ma in questa vasta letteratura c'è una lacuna più che essenziale. Gli specialisti hanno esaminato con la massima attenzione migliaia di rovine, decine di migliaia di superstiti della grande catastrofe, ma hanno escluso dalle loro indagini scrupolose qualcosa di molto importante, se stessi. Ma così facendo hanno trascurato un fatto decisivo. Le bombe atomiche colpiscono anche chi le usa e perfino chi si limita a progettare seriamente il loro impiego. Questo effetto boomerang dei mezzi di distruzione di massa non è, è vero di natura fisica, ma di natura psichica e spirituale, poiché la violenza distruttiva delle armi atomiche che trascende ogni esperienza bellica precedente, impone a coloro che le abbiano usate o intendano usarle un carico psichico che non sono in grado di elaborare consapevolmente né inconsapevolmente. Il caso Etherlich ha aperto per la prima volta gli occhi su queste ripercussioni delle nuove armi. Ecco una persona che non allontana da sé, non rimuove l'evento orrendo che ha contribuito a scatenare, ma lo sente intensamente come colpa e si mette a gridare mentre tutti gli altri tacciano, ottusi o rassegnati. Il suo sbarrimento, il suo svegno, le sue sofferenze appariranno probabilmente più normali alle future generazioni del contegno dei suoi connazionali in senso stretto e più largamente dei suoi contemporanei. Tutti noi dovremmo provare e accusare lo stesso dolore dovremmo lottare con tutte le forze della coscienza e della ragione contro l'irruzione dell'inumano e dell'antiumano. Invece continuiamo a tacere, serviamo il nostro contegno, ci diamo a vedere insensibili. Ma è una calma solo apparente, poiché nemmeno noi siamo all'altezza delle nuove armi. Sotto il loro peso crollano le basi della nostra esistenza politica e morale. La contraddizione tra ciò che vogliamo difendere e i mezzi previsti per la difesa diventa ogni giorno più grande. Ciò conduce a tensioni interne insuperabili, a una malattia psichica collettiva che raggiunge fin d'ora uno stadio acuto presso un numero sempre maggiore di uomini. Gli Stati Uniti che hanno introdotto quei mostri nella scena mondiale, e hanno continuato a svilupparli anche dopo il monito giapponese, sono stati anche i primi ad essere colpiti dalla ripercussione spirituale delle bombe. Com'è semplice in fondo il caso Aetherley se lo si confronta con caso America, tanto più grave perché è inconfessato. Il vero oggetto tragico del dramma non sono le traversie del pilota texano, ma il fatale irritimento del suo paese e dei suoi concittadini. Per realizzare la libertà dalla paura ha introdotto nel mondo la paura atomica. Per assicurare la libertà e la felicità del singolo crede di dover minacciare la morte a milioni e milioni di uomini. Ma ora c'è anche il caso Urs, il caso Inghilterra, il caso Francia, il caso Germania e domani ci saranno probabilmente il caso Svezia, il caso Svizzera, il caso Israele, il caso Cina. Non un paese che si disponga ad usare per la difesa dei suoi valori e dei suoi diritti le nuove armi distruttive di ogni valore e diritto può reggere senza gravi danni al carico psichico rappresentato da questa sola intenzione. Poiché, anche senza mai esplodere, le armi atomiche tenute esclusivamente in serbo reggiscono fin d'ora su possibili agenti, svuotano dall'interno la democrazia lasciando a pochi le decisioni più importanti, producono un abbrutimento generale nelle forze armate che devono essere sempre pronte e disposte a tutto, distruggono nei popoli, uniti di armi atomiche, l'intima fede nella propria umanità e moralità. Guardate le foto del giovane Claude Robert Heterley al tempo in cui entrava come volontario nell'aviazione americana e avrete davanti a voi il volto tipico del clean cut boy americano. Non è molto quello che si legge nei suoi tratti ma quel poco sembra rispecchiare tutte le virtù di cui parlano i libri per ragazzi, spiritura, coraggio, pulizia morale e innocenza. Migliaia e migliaia di adolescenti come lui accorsero allora alle armi per combattere in nome della Decency and Democracy contro la barbarie del nazionalsocialismo. Lo studente Heterley, passando dall'istituto magistrale texano alla caserma dell'Air Force, poteva ancora credere che la libertà e l'umanità si potesse difendere con la forza delle armi. Tanto maggior peso assume oggi la sua presa di posizione contro ogni guerra, anche contro quelle che possono sembrare giuste, poiché fra la decisione del volontario e il rifiuto dell'internato in tempo di pace si situa l'esperienza della distruzione atomica, che Heterley contribuì a scatenare senza rendersi conto della parte che gli era stata assegnata. Si dice che il maggiore Heterley, dopo la tremenda esperienza di Hiroshima, non parlasse a nessuno per giorni interi. Ma alla base insulare di Tinian, dove il suo gruppo, pervenuto nel frattempo a una dubbia gloria, attendeva la smobilitazione, nessuno pensò che si trattasse di qualcosa di grave. Battle fatigue era la classificazione definita di quello stato. Molti ne restavano colpiti e lo stesso Heterley, nel 1943, dopo 13 mesi passati senza interruzione in servizio di vedetta nel Pacifico meridionale, aveva già sofferto una volta di una forma simile di esaurimento. Allora si era ripreso dopo una cura di 14 giorni in una clinica di New York e anche questa volta parve tornare abbastanza rapidamente alla condizione psichica considerata come normale tra i veterani del Pacifico in periodo di riposo. Quella di chi passa il tempo giocando a poker tra bestemmi e barzellette e storie di guerra. In quei giorni si diffusa per il mondo la notizia che uno dei piloti che avevano partecipato all'attacco su Hiroshima si era ritirato in convento per cercare nella preghiera un sollievo dalla sua colpa. Ma non era che una leggenda, in realtà il maggiore di cui si era fatto il nome a questo proposito aveva accettato un posto di direttore in una fabbrica di cioccolato. La voce si dimostrò in questo caso più vera della realtà, inventò un atto di rimorso che avrebbe dovuto effettivamente verificarsi. Tra tutti coloro che avevano partecipato ai due bombardamenti atomici, Hetherley fu il solo, in quei primi mesi del dopoguerra, a resistere alla tentazione di farsi celebrare come un eroe, e i suoi concittadini dimostrasero comprensione per il suo atteggiamento. Il riservo dell'avviatore non fu interpretato come segno di follia e neppure di stravaganza, poiché allora il buon americano e i suoi concittadini non si erano ancora reciprocamente estraniati. Il turbamento, sollevato dall'orrore di Hiroshima, non era ancora considerato come un sintomo di debolezza. La condanna delle bombe atomiche non era ancora sospetta. Non mancavano in quel periodo autoaccuse e ammissione di colpa. L'opinione pubblica quasi unanime esigeva la messa al bando immediata degli ordigni nucleari, e da parte delle più varie tendenze politiche si affermava che gli Stati Uniti dovevano rimunciare spontaneamente il monopolio atomico, che si sarebbe potuto mantenere del resto solo per breve tempo, e compiere il gran gesto di iniziare tutti i membri alleati delle Nazioni Unite ai segreti della nuova rivoluzionaria scoperta. Ma il gruppo dapprima isolato e poco numeroso di coloro che sostenevano la tesi del possesso esclusivo da parte degli Stati Uniti delle nuove potentissime armi, impose a poco a poco le sue vedute, indirettamente favorito dal no sovietico, a loro tutt'altro che sgradito, ai piani americani di controllo, che erano già stati formulati con scarsa convinzione. La guerra fredda cominciava e cominciava la corsa al riarmo atomico. Se il numero di 6 cifre delle vittime giapponesi aveva scosso la gente, essa si abituò ormai a cifre 10 o 100 volte superiori. Emerse una nuova unità di misura, il Megadit, equivalente a un milione di atomizzati. E con questa unità si facevano i conti. Essa era impiegata tranquillamente nei calcoli della politica di dissuasione. Se un individuo singolo tenesse questi discorsi, sarebbe dichiarato pazzo e chiuso in una prigione come pericolo pubblico. Non così uno Stato maggiore, non così un governo. Agli organi esecutivi della società è lecito a macchinare questi piani folli e prepararli in concreto col consenso di una parte dell'opinione pubblica. Se un uomo, fino a poco tempo fa relativamente mite e pacifico, cominciasse a sospettare in ogni gesto del suo vicino l'intenzione di assassinarlo e cominciasse a trincerarsi in casa propria, a circondare ognuna delle sue azioni di un velo di segretezza, si direbbe che soffre di mania di persecuzione e sarebbe sottoposto a un trattamento psichiatrico. Non così una grande potenza, dove tutto ciò è considerato addirittura come politica ragionevole e realistica. Era cominciata alla reazione della bomba atomica sui suoi detentori. Il fatto che i potenti, simili a divinità, disponessero di forze apocalittiche, non li rendeva saggi modesti, ma duri e tracotanti. Domani, se avremo ancora modo di vedere un domani, i fautori dell'armo atomico e i loro calcoli di sterminio saranno bollati di fronte al tribunale della storia come lo sono oggi Hitler e le sue dottrine, che sono giudicate universalmente folli. Ma questo giudizio arriva sempre in ritardo e non può risuscitare le vittime. Prima le città e campagne erano devastate da un disguido della politica di ricatto e di sua zona reciproca. Prima che la terra, nella misura in cui non sarà diventata un cimitero, si trasformi in un solo. Immenso lazzaretto, deve essere chiaro a tutti che la reazione psichica delle bombe atomiche ha fatto impazzire, nel senso letterale della parola, i loro detentori. E che questa pazzia è tanto più pericolosa in quanto i suoi esponenti hanno l'aria di parlare ragionevolmente e appaiono come persone normali, civili e responsabili. E noi, cittadini, vittime potenziali di domani, che cosa possiamo e dobbiamo fare per impedire che la follia della catastrofe nucleare sia scatenata su di noi da questi freddi calcolatori. A questa domanda importantissima, chi si pone i superstiti della seconda guerra mondiale ha cercato di rispondere il maggiore Eterly. Le prime risposte che egli cercò di dare erano risposte sbagliate e soprattutto inefficaci. Egli tentò dapprima la scappatoia dell'emigrazione. Poco dopo essere stato congedato dall'Air Force nel 1947 lasciò il paese spaventato dalla sua evoluzione politica. Poi tornò a casa e cercò, come tutti intorno a lui, di dimenticare, di guadagnare, di dedicarsi alla propria vita privata. Si impegna presso un'edità petrolifera a Houston, si reca ogni giorno in ufficio, frequenta la scuola serale per studiare giurisprudenza e diventa direttore di un ufficio a vendite. Eterly era sposato dal 1943 a una giovane attrice, Concetta Margetti, che era che aveva conosciuto durante il periodo di addestramento in California. Durante i primi sette anni del loro matrimonio si erano potuti vedere sempre e solo per pochi giorni, al massimo per poche settimane. Ora potevano condurre finalmente una vita più normale, con la casa, il giardino, i bambini, una modesta possibilità di ascesa sociale e tutti gli altri accessori della vita serena nel proprio cantuccio. Così di giorno, ma di notte l'ex avviatore è tormentato da angosce e da incubi. Per il momento sono ancora tollerabili, basta qualche bicchierino a scacciare la depressione, qualche pillola a eliminare l'insonnia, ma presto questi mezzi elementari non basteranno più. Eterly crede di vedere nei suoi sogni i volti deformati delle vittime che bruciano nell'inferno di Hiroshima. È intorno a questo periodo che comincia a mettere di tempo in tempo una banconota in una busta e a spedirla a Hiroshima o a scrivere lettere in Giappone, in cui alternativamente si accusa e si scusa. Ma anche questo rimedio non serve. Così nel 1950, l'anno in cui il presidente Truman annunciò che l'America avrebbe costruito un'arma atomica ancora più potente, la bomba a idrogeno, nella stanza di un albergo New Orleans, Eterly cerca di togliersi la vita con un sonnifero. È ritrovato ancora in vita, è rilasciato dopo due giorni di ospedale. Si fa ricoverare spontaneamente per altre sei settimane all'ospedale militare di Vaco, dove si curano i soldati affetti da malattie nervose. Nesce senza che sia intervenuto alcun mutamento nella sua salute. Egli cerca allora di curarsi da sé e abbandona il suo posto in ufficio per un lavoro di carattere manuale nei campi petroliferi. La stanchezza fisica gli permette di dormire più tranquillamente per un certo periodo, ma poi ricomincia a rimuginare su ciò che è accaduto, che accadrà, che dovrà necessariamente accadere se non si trova il modo di impedirlo. Allora matura in lui, in piano inconsueto. Sopporrà alla nuova tendenza militaristica dell'America, che ha appena eletto presidente un generale della Seconda Guerra Mondiale, rovesciando dal suo piedistallo, compromettendo e smascherando l'ideale nazionale del combattente eroico e valoroso. E l'oggetto di questo smascheramento sarà lui stesso, l'eroe di Hiroshima, il maggiore Claude Robert Hatterley. All'inizio del 1953, davanti al pretore del New Orleans, appare tra vari altri piccoli malfattori uno che ha falsificato un assegno per una somma irrilevante. Si registrano i dati personali due o tre domande e il giudizio, nove mesi, e si passa al caso seguente. Hatterley ha appena aperto bocca. Avrebbe forse potuto dire che aveva spedito quel assegno a una fondazione destinata a provvedere agli orfani di Hiroshima? Avrebbe potuto richiamare l'attenzione al suo grado, alle sue azioni di guerra? Niente di tutto questo. La macchina giudiziaria è troppo rapida, il caso è troppo insignificante per attirare l'attenzione. Sarà ben presto rilasciato perché la pena gli viene condonata per buona condotta. Nuovo tentativo ad Aldas, questa volta si tratta di rapina. Ma lo strano rapinatore non ha portato via nulla. Il caso viene messo a tacere quando l'avvocato dichiara che il suo cliente è irresponsabile e che andrà in ospedale a farsi curare. Altri quattro mesi avacò. Il maggiore Hatterley venne riconosciuto psichicamente infermo, invalido di guerra e venne rimandato a casa con una piccola pensione di 132 dollari mensili, che in seguito sarà perfino raddoppiata. Non gli infliggono il marco del delinquente come aveva sperato, non gli concedono la grazia del castigo con cui potrebbe sperare di redimersi dalla sua grande colpa, ma non riescono neppure a guarirlo. Dopo sei mesi di lavoro come rappresentante di una ditta di macchine da cucire, tenta di nuovo di suicidarsi. La moglie lo trova con le vene dei polsi tagliate. È fermamente decisa a divorziare, se egli non tornerà a sottoporsi a una cura psichiatrica. Così si ripresenta, egli stesso, alla clinica di vacò. Il direttore della clinica, dottor Mac Elroy, descrive così in termini freddi e concisi le sue condizioni. Alterazione chiaramente riconoscibile della personalità. Paziente è completamente ritratto dalla realtà. Stati angosciosi, tensioni psichiche crescenti, reazioni sentimentali attutite, idee fisse. I suoi rimorsi di coscienza sono liquidati con i sintomi morbosi. La sua sensibilità, che lo distingue dai suoi concittadini che vivono senza darsi troppi pensieri, è interpretata come assenza di sentimenti e quanto è le idee fisse si cercherà subito di levargliele di testa con fortissime dosi di insulina. Eterly era sottoposto a questa cura quattro o cinque volte alla settimana perché potesse finalmente dimenticare, e dopo sei mesi parve che i cattivi ricordi fossero stati veramente scacciati. Ex filota ritornò alla famiglia di sua moglie nella città petrolifera di Momon, ma solo per constatare, dopo breve tempo, che il suo matrimonio, dopo tante prove, era andato definitivamente a catafascio. Concetto a Margetti chiese prima la separazione legale, poi il divorzio. Ottenne che fosse vietato al marito di frequentare i figli e rinunciò espressamente ad ogni sussidio da parte sua. Eterly rispettò il primo desiderio, ma continuò a pagare spontaneamente un contributo per l'educazione dei figli. E così questa vita, sconvolta dalle ripercussioni della bomba, continua per cinque anni ad oscillare con febbrile monotonia, fa il tribunale e la clinica, tra i vani gesti di rivolta di un bandito dilettante che assalta cassieri senza derubarli, scardina porte di uffici postali senza toccare un soldo, e tentative di guarigione di un malato a cui non servono psicoterapie o tranquillanti perché, moralmente più sano del suo ambiente, non può adattarsi alla società malata in cui tornò ogni volta, avendo perduto per sempre, dopo gli eventi del 1945, quella cara pace psichica che permette ai suoi contemporanei normali di sistemarsi con relativa comodità tra Auschwitz-Hiroshima e la minaccia di nuovi, spaventosi crimini di guerra. E tuttavia il maggiore Eterly ha ottenuto qualcosa di ciò che si era proposto, poiché è riuscito ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul proprio caso. Inizialmente è vero essa reagì alle notizie sul pilota pazzo di Hiroshima in modo ben diverso da come Eterly aveva sperato. Egli voleva scuotere dal profondo i suoi concittadini e non faceva che commuoverli superficialmente. Invece di screditare la casta militare assorta durante la guerra e consolidarsi nel frattempo in istituzione, questo affare le faceva pubblicità, poiché si cominciava a sapere degli sforzi dell'aviazione che era intervenuta ripetutamente in tribunale a favore di Eterly per evitargli la prigione e farlo ricoverare in case di cura e questi non provavano forse quanto fosse grande l'umanità dei militari. Ispirava molta curiosità e un po' di compassione. Era tutto ciò che suscitavano le notizie spesso ricorrenti sulla sorte di Eterly. Ma accade che nella primavera del 1959 il filosofo Günther Anders, residente a Vienna, leggesse una notizia su Eterly in una rivista americana. Moralista di gran valore, filosoficamente preparato e originale, egli si impadronì del caso Eterly, riconoscendo subito l'importanza storica centrale di questo affare, considerato da tutti solo come una storia curiosa ai margini degli avvenimenti mondiali. Il carteggio nato dall'incontro fra l'intellettuale e l'uomo che aveva agito fornisce una risposta alla domanda. Che fare? Non può essere la risposta completa ed esauriente, ma rappresenta un passo importante verso la guarigione di una società malata, ripensando la condizione della follia atomica elevata al rango della ragione con tale acume e in modo così nuovo e originale come non era mai accaduto prima. Ma ciò che più commuove il lettore in questa corrispondenza è l'effetto visibile che essa produce su Eterly, dove erano falliti i neurologi e le loro droghe. Un spirito chiaroveggente, un amico comprensivo e partecipe ha saputo ridare all'uomo tormentato la pace interiore e la sicurezza, la speranza e il senso della vita. Ma il filosofo non poteva aiutare il suo lontano allievo e protetto, allorché questi con le sue nuove conoscenze su se stesso e sul proprio compito sentì l'ardente bisogno di cominciare in libertà una nuova vita. Benché le autorità avessero sempre dichiarato che Eterly si trovava all'ospedale di Vacò, non già come internato ma in qualità di ospite volontario, continuavano a negargli l'ospicato rilascio, finché l'aviatore scelse la libertà di sua propria iniziativa. Proprio ora, che egli non era più soltanto un ribelle sentimentale un po' confuso, ma un uomo che aveva cominciato a riflettere e che voleva mettere il resto della sua vita al servizio dell'opera di chiarimento e di persuasione sui pericoli del riarmo atomico, lo fecero riprendere come un detenuto evaso e lo condannarono. In un processo a cui non partecipava, un solo perito indipendente, ma solo psichiatri nominati dalle autorità militari. Ad una reclusione rigorosa nella clinica di Vacò. Il significato concreto di questa misura emerge da un resoconto del giornalista Ray Bell su Quotidiano Locale. L'ospedale degli ex combattenti di Vacò consiste di numerosi edifici a due piani in mattoni rossi. Eterly è stato trasferito da poco nel World 10, che è il settore riservato ai furiosi. La maggior parte dei malati non vi ricorda nemmeno il proprio nome. Eterly dice che i soli esseri umani con cui possa parlare sono i custodi. Si alza presto, ma non gli danno niente da fare. Vede i medici, ma solo quando fanno il loro giro quotidiano. Tutta la sua cura consiste in due compressi di Terazin. Nella sala dove era chiuso abitano circa 30 pazzi. L'atmosfera che vi domina lo rende infelice, poiché impedisce di fare ciò che più vorrebbe. Per ora non può andare nemmeno in chiesa, benché questa si trovi entro i confini della zona ospedaliera. Come si comporta quest'uomo, l'inchiuso tra i casi violenti, i pazzi furiosi, quando nel gennaio 1961 si discute e decide davanti a un giurì la questione del suo internamento. Lo stesso giornalista americano che assisteva al dibattimento per conto di un grande giornale francese, così riferiva in proposito. Eterly si condusse egregiamente, ridendo a volte quando il difensore trovava un buon argomento. Così, per esempio, quando uno dei medici chiamati a deporre affermò che Eterly aveva preparato una lista di domande battute a macchina, Eterly gli sussurrò all'orecchio che egli non poteva scrivere a macchina. Rispondeva alle domande senza difficoltà e senza incertezze, per lo più in stile militare. Yes sir, no sir. Andò in collera solo quando un avvocato prepotente cominciò a chiedergli di dove proveniva il suo denaro. L'avvocato lo stava mettendo alle strette e Eterly disse, lei si procura i soldi alla sua maniera e Dio alla mia. Ma anche nell'ira non perse il controllo dei propri nervi. Aveva in quel momento un aspetto tranquillo, freddo e concentrato, almeno quanto quello che può avere ogni altra persona normale. Va da sé che è rimasto deluso per la decisione presa dai giurati, ma non aveva certo l'aria di chi si riconosce sconfitto. Disse soltanto, beh, è così che vanno le cose. Nella lettera d'accompagnamento allegata al resoconto di otto pagine del giornalista, si dice ancora a proposito del confinato nel reparto casi gravissimi, in realtà molto probabilmente. Era la persona più intelligente in tutta l'aula del tribunale. Lo stesso giornale, alla cui redazione appartiene l'onesto cronista Ray Bell, ha pubblicato sullo stesso processo un altro resoconto scritto da un altro collaboratore che era diametralmente opposto alle osservazioni e conclusioni di Bell e corrispondeva invece puntualmente all'interpretazione raccolta e fatta propria da quasi tutta la stampa americana. Il lettore di cui ha resoconto doveva pensare che il pilota Ettoli era un povero deficiente e che il suo internamento era quindi pianamente giustificato. Poiché viviamo in un'epoca in cui si giudica la bontà, ingenuità, nonestà, stupidaggine, la compassione, debolezza e l'amore del prossimo follia. Le virtù hanno corso solo ufficialmente e nella prassi della vita quotidiana non sono più prese sul serio. I beffati, gli ingannati, i delusi non si rivoltano più, convinti che non ne valga la pena e tutt'al più sono ben decisi a non credere più a nulla. Se a qualcuno viene in mente di parlare loro di morale, lo respingono come presuntuoso, ipocrita o nella migliore dell'ipotesi arretrato. Poiché gli scettici e i cinici che si considerano realisti credono ormai di aver capito come si svolge il gioco e si attengono deliberatamente alle sue regole. Anche se questo gioco torna, in realtà, a loro danno. Anche se la posta è costituita da loro stessi. Tanto più grande è la responsabilità dei pochi che non hanno paura nemmeno del ridicolo. Quello specchio concavo che può trasformare da un momento all'altro in Don Quixote ogni cavaliere della verità. L'aiuto spirituale che Gunther Anders ha dato allo sconosciuto amico americano mi sembra un esempio del fatto che gli uomini, intellettualmente e moralmente responsabili, non devono piegarsi né abdicare, ma devono assolvere oggi più che mai, al compito, anzi al dovere, di fungere da portavoce delle vittime. Così facendo essi non disgregano la società, ma le aiutano a capire che è vittima essa stessa di errori fatali. Il caso Eterly non è solo la ripresa di un processo eternamente ricorrente, quello per cui un sacro folle sfida e mette a nudo con la sua diversità alla classe dirigente del momento e la sua morale in dissoluzione, a ciò che accade in generale, poco prima che nuove leggi siano incise in nuove tavole.